siamo saliti, arriviamo in un posto davvero molto molto bello ecco qua questa terrazza, adesso siamo al sud per cui è tutta illuminata questa è una terrazza che gira tutto intorno al cortile, sono metrature molto ampie, vedete tutte serrande chiuse la faccio sul cortile e queste sono le ulteriori metrature da rigenerare, andiamo a vederle dentro